Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella la vita di Napoli Siamo tornati oggi con una sfida che vi riproponiamo Vi riproponiamo Vi riproponiamo perché molti di voi non l'hanno vista E soprattutto quando l'abbiamo fatta non avevamo una reflex Quindi la qualità del video non era un granché Come siamo sadici e tutto quanto Vogliamo farvi vedere il dolore in HD Sì, ora questa è una cosa Oh, non ci attento Allora, altre squadre casuali 1, 2, 3 Slovenia House in World No, 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 non si può fare No, no, un cacarcazzo, sai quante volte Tu, puoi, ti credi che ne ho Attenzione, Slovenia Piove pure Incredibile E' la merda, si è fantastico E' la merda, si è E' la merda, si è muo E' come gioca la Slovenia Ancora la Slovenia Perchè, nazionale con la squadra del merda Bello Dai, vai, vai Che è sta cosa Vai, vai Sì, che cazzo Oddio Ho frischiato No, non è andato a rigore Sì Andato a rigore È giusto È netto rigore Ma che cosa È netto È netissimo Dai, che pezzo del merda No, non è andato a rigurre Sì Non me l'ha presa Sì Sì Go, lo Guardi, io come sei andato Già, che la squadra della tic No, sei andato E giro No, non va No, mamma mia Guarda, guarda Ma che sei la sua, lui Eh no, è sempre lo stesso Guarda, non riesce a fare E' partito Ucciuccio, sei tu Sei tu, chità Dumbia Mamma mia Se passava Oddio, uno, due Uno No, 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 no Schierbe Valla per Bamberg Parte Bamberg Parte Bamberg Mamma mia È uno che si fa molto Perché si fa di Bamberg Non è anche di Bamberg Mamma mia L'infortunato Incredibile Ancora Ancora No, che cazzo fai Ridagliela Mamma mia Tira Ancora No, by the way Vivi qua Vivi qua Vivi qua Piccolino No 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 Vai Vai Piano, vai Va Occhio, quali c'hai quale Tranquillo Senza indugi, proprio Ma io Vai 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 Perdott o alas da questo questo è una bestia pure se infortunato è una bestia guarda per bambi aukas chi si chiesa come si chiama non lo so non lo so lo scatto sulla fascia ancora il cross al volo ficolea sto per gira io ho voglio che farlo io ho voglio dire che è sconci ma va fuori 1 ma va fuori ma che è sta storia ancora il coso e mezzo stolas stolas è una cosa a mezzo prova la squadra non si sa come si chiama un postale azione d'attacco buco mi sono bella io ho fatto che non è la squadra o pizzer non è la squadra guarda kurti c'è ancora ma che cazzo è mamma mia magico magico figa magico ma che cazzo fai controviede 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 guarda parti ancora quello infortunato il famoso quello infortunato per lui che avanza il giro morite tutti morite camp mamma mia il main camp min a tratta ferrara a no vedo il can per ciao io ho 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 oppure audio oddio, 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 fa tutto lui non ci posso credere, non ci posso credere non ci posso credere, come sei casco ma mio non ce la faccio vai vai ma che ho fatto che male guarda che ha paura per i pauri questa altra? si guarda questo o questo? guarda basta che fai guarda però aspetta questa è stata da bella quindi oddio da qua dai vai vai ma questa la carico proprio no no che carissimo uno due ahahahah ahahahah Gioca così E ancora Mertelgi 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 Va avanti Mertelgi non lo ferma più nessuno oddio, magnifico dai dai dai, porca broia dai no, Samir io non dormire e finisce qua, porca puttana però, oh, porca mia torna vincitore, con Andano vince e cortice che esulta, non ero una da me dire che c'è, mi ascolta più forte ma vabbè comunque, mi frega un cazzo si si, vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè dai, che ora adesso è tutto eeeh, ecce... guarda che tu dovevi ancora propicare l'altra volta, nel video vecchio tu ricordi che negannulina e poi tira è nato alzati, alzati dai, eh, vi sto togna tre qualsnove ti rinporta a lui... tre eeeh eric troncat ahah Ah, ma hai preso tutto gli applica, eccola E così si fa Lui si è preso la cintata del video vecchio che se doveva prendere Dopo 4-5 mesi, non mi ricordo quale cifra Tanti, se l'è presa E quindi noi ci vediamo al prossimo video 4.000 like Bella